In mission sul nostro territorio nella provincia di Trapani Salvatore Maddio, coordinatore nazionale EPAR, ente paritetico CIFA-Consal. In mission perché proprio il tuo ente coordinatore ha quella voglia di in concreto far sapere quali sono i vantaggi e i benefici per lavoratori e imprese. Cos'è l'EPAR? Io volevo esplodere questo concetto andando anche spogliandomi dei tecnicismi in modo che il messaggio possa essere compreso da tutti. Diciamo che per analogia rispetto a quanto avviene nella realtà, quindi nelle aziende dove si incontrano datori di lavoro e lavoratori, a livello istituzionale l'ente bilaterale, EPAR, è il luogo dove si incontrano istituzionalmente le parti sociali che sono, per quanto riguarda il datore di lavoro, CIFA Italia, che rappresentano i datori di lavoro, e poi per quanto riguarda i sindacati, la CONFSAL. Ecco, queste sono le parti sociali che si incontrano, ma sicuramente per quale intento, per quale obiettivo? Sicuramente che è quello di dare vantaggi a entrambe le parti che sono in azienda, quindi lavoratori e datori di lavoro o aziende. Questi vantaggi, in che cosa si concretizzano? Ecco, si concretizzano sicuramente nel dare un concetto di efficacia ed efficienza nei processi produttivi, cercando di valorizzare quello che è il patrimonio umano e la concezione del lavoratore all'interno dell'azienda. Questo fa sì che coinvolgendo i lavoratori sempre più nelle decisioni aziendali o nei processi produttivi, si aumenta il benessere del lavoratore. Inoltre, un altro vantaggio che l'ente bilaterale cerca di dare ai lavoratori è quello di aumentare il potere di spesa dei lavoratori, perché dà delle prestazioni sociali che, riassumendo, posso dire che sono quelli di premio di natalità, premio di inunzialità, contributo per l'asilo nido, premi di risultato scolastico dei figli, dei lavoratori. Quindi su questi sono, ma ce ne sono anche tanti altri, quindi questo è solamente per fare un esempio, ce ne sono diversissimi altri, e di contro il momento in cui il lavoratore all'interno dell'azienda viene valorizzato, quindi quello che noi cerchiamo di fare è un momento di rivoluzione culturale, ecco, nel momento in cui il lavoratore viene valorizzato all'interno dell'azienda sicuramente ci sarà un aumento in termini di efficienza e di efficacia, quindi aumenterà la capacità produttiva, aumenteranno anche i ricavi dell'azienda, aumenterà anche la qualità della produzione, dell'erogazione dei servizi, e questo è tutto a vantaggio del datore di lavoro e dell'azienda, che è quello che ci interessa. Salvatore, naturalmente c'è solo un quid, un elemento requisito, quello di aderire alla cifa, e guarda caso è un fatto che questa adesione proprio produce tutta una serie di vantaggi, anche per le aziende, le quali aziende sono obbligate dalla legge ad adempere certi obblighi, e che se non lo fanno magari hanno delle penalizzazioni, aderendo alla cifa informati dall'Epar e dalla cifa, invece addirittura hanno dei vantaggi sostanziali, sostanziosi anche a loro. Sì, aderendo al sistema della contrattazione collettiva della cifa Italia, sicuramente si innesca un procedimento virtuoso per l'azienda, perché si possono sfruttare tutta una serie di benefici e vantaggi per l'azienda, che possono essere anche l'utilizzo di strumenti che il legislatore ha posto a beneficio dell'azienda, se rispetta l'applicazione del contratto collettivo nazionale. Ovviamente Cife è stato molto attento, siamo molto sensibili su questo aspetto, noi siamo un'organizzazione dinamica, cerchiamo di rendere fruibile quelli che sono gli incentivi che lo Stato mette a disposizione dell'azienda. Tutto quello che sono materie di incentivi, le aziende devono comprendere che, se rispettano l'applicazione del contratto, e nel contratto è scritto tutto, sicuramente saranno nelle possibilità di beneficiarne. Quindi noi recitiamo anche un ruolo di assistenza, anche ai consulenti per l'applicazione del contratto, anche delle aziende, quindi faremo anche degli accordi collettivi aziendali ad hoc per adeguare quelle che sono le esigenze dell'azienda all'applicazione dei termini contrattuali. Salvatore Maddio, coordinatore nazionale Epar, viene a portare strumenti sul territorio, strumenti, stimoli ma anche informazioni e novità, è quello che ancora deve avvenire, con il quale invece cusce, come in una tela, tutti i rapporti azienda e dipendenti e anche informazioni proprio dirette, e il dirigente provinciale Cifa, Gaspare Ingargiona. Salve, innanzitutto grazie a Tilio per la tua bontà, per la tua pazienza, insomma di avere questo tipo di riferimento nostro. Cifa Italia si occupa già da anni, da tempo, di aiutare le imprese con molte agevolazioni, non per ultimo grazie al nostro Salvatore Maddio, che è coordinatore nazionale di Epar, e ha già detto ampiamente Epar i vantaggi che dà alle imprese, ma in particolare quello che metto in evidenza è questa crescita che sta avendo il territorio Cifa Italia, con una molteplicità di lavoratori iscritti, oggi contiamo 1600 lavoratori in provincia di Trapani, 400 imprese che rispecchiano al massimo e quello che è la crescita del territorio, e questo messaggio è dato innanzitutto alle aziende, ma per il tramite ai miei colleghi consulenti, perché è giusto dire che nasco come consulente, ma adesso vorrei in qualche maniera attivare un vantaggio concreto alla provincia di Trapani, dicendo che la storia che ce la insegna è che bisogna creare le forze e le adesioni per far crescere il territorio e far crescere le imprese e i lavoratori. Ecco, tornando un po' al discorso di Cifa, Cifa oggi attiva uno slogan importantissimo, che penso che sia quello per la maggiore, quando vai ad inserire all'interno e dice sosteniamo la tua impresa, benissimo, questo è quello che facciamo noi, lo facciamo con voglia di fare, e con tutti i requisiti che il governo porta avanti oggi, e sicuramente domani avremo in qualche maniera la capacità di dare ancora di più. Che cos'è il contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale? In breve non fa altro che raggruppare ugualmente il regime ordinario, ma attenzione, applica un regime retributivo differenziato per le aree svantaggiate. Purtroppo è in me, siamo in una zona svantaggiata, è giusto applicare un contratto che rivesta il nostro territorio. Bene, questo lo fa Cifa Italia, siamo a disposizione per questo tipo di messaggio, assieme a tutto quello che sono i vantaggi che offre, oltre a Ipar, anche il fondo Fonarcom. Solo un attimo, Attilio, volevo fare vedere, effettivamente così al volo, la possibilità tramite il fondo Fonarcom, che è il fondo su cui si dà voce alla formazione, che non fa altro che inserire in un contesto sociale la formazione gratuitamente per tutte le aziende e quindi per i lavoratori che sono inseriti nel contesto aziendale, sulla sicurezza sul lavoro e su molto altro, ripeto, gratuitamente perché? Perché lo 0,30% che è rivestito in parte adesso sullo 0,19%, ma così come dice Salvatore non andiamo sui tecnicismi, viene gestito e curato dall'ente di formazione affinché gratuitamente, dietro richiesta, venga fatta questa attività di crescita del lavoratore e fatta in maniera tale che sia esaustiva domani per il futuro del nostro territorio. Crediamo in questo, crediamo nella crescita del territorio. Salvatore Mattio, i pilastri dell'EPAR, mission, vision, valori, impressiona molto questo attributo valori? Sì, perché i valori sono la base sulla quale si costruisce un impero. Quello che noi vogliamo creare è qualcosa che vogliamo portare vantaggi e benefici sia ai lavoratori sia alle aziende, ai datori di lavoro, perché proprio nella bilateralità, ecco, il segreto è questo, nella bilateralità, ascoltare, il lavoratore deve ascoltare cosa ha da dire il datore di lavoro e il datore di lavoro deve ascoltare cosa ha da dire il lavoratore in merito. Quindi non ci può essere crescita se non c'è dialogo, se non c'è confronto anche all'interno dell'azienda. Non esiste che il datore di lavoro deve concepire il lavoratore come solamente una risorsa umana che deve essere spremuta perché è stato pagato. Così pure non si deve insinuare nell'immaginario del lavoratore il fatto di pretendere il pagamento perché si è lavoratori ma bisogna dare all'azienda, quindi bisogna dare anche un senso di appartenenza. E' importante che il lavoratore dice questa è la mia azienda. Ecco, la bilateralità serve per questo, serve per fare progredire questo concetto culturale di appartenenza che l'azienda è del datore di lavoro e del lavoratore. Sembra quasi un paradosso, negli ultimi tempi le famiglie soffrono delle spese per mantenere figli a scuola. Nella socialità proprio il tuo ente coordinatore nazionale punta il dito e dà delle agevolazioni che non sono da poco. Sì, questo è un grandissimo vantaggio perché in sostanza tutte le prestazioni sociali che noi eroghiamo in favore dei lavoratori che sono come abbiamo detto e ripeto il premio di natalità, annunzialità, buoni libri e quant'altro tutte queste prestazioni sono benefici per i lavoratori e non sono soggetti a tassazione. Quindi è vero che il lavoratore ne riceverà un contributo in termini monetari, gli sarà fatto un accredito direttamente in conto corrente ma per normativa questo accredito poiché non è messo in busta paga, parlando di tecnicismo, se fosse messo in busta paga sarebbe imponibile sia fiscalmente che previdenzialmente ma poiché viene erogato da un ente bilaterale per normativa diventa come se fosse una prestazione quindi sociale e non è soggetto a tassazione. Quindi applicare tutti gli istituti e gli strumenti che la contrattazione collettiva di CIFA dà serve alle aziende per abbattere il cuneo fiscale e serve ai lavoratori per aumentare la propria capacità di spesa. Anche nel settore sanità ci sono delle gravissime lacune, più che altro difficoltà ecco perché c'è molta gente e viene fuori dalle cronache quasi quotidiane molta gente che rinuncia a controlli da specialisti, a visite eccetera chiediamo a Gasparin Gaggiola, dirigente provinciale CIFA sappiamo che la CIFA ha un forte strumento di intervento, Sanarcom cos'è? Sanarcom non è altro che uno strumento importante cui invito tutti i lavoratori ad aderire perché il regolamento è presso la nostra sede ma è divulgabile anche su internet con un contributo di 12 euro mensili tramite l'applicazione contrattuale CIFA il lavoratore e la famiglia dei lavoratori possono avere dei benefici sulla diagnostica non solo diagnostica riguardante eventuali esami radioterapeutici ma anche per quanto riguarda odontoiatrici e altre business mediche specialistiche ecco questo è quello che offre CIFA tramite gli strumenti Sanarcom è un invito chiaramente ai lavoratori ad aderire perché non è un'adesione diretta ma è uno strumento che dà CIFA e siamo pronti a dare quest'altra agevolazione molto importante per la crescita del territorio assolutamente questo si affianca tantissimo a quelle che sono le politiche contrattuali di CIFA non per ultime quella del welfare aziendale oggi parliamo di welfare aziendale, parliamo di contrattazione decentrata parliamo di contrattazione di secondo livello tutti strumenti importanti che portano alla luce degli aspetti di regolarità di realtà, di buoni auspici per il futuro del territorio perché guardare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro oggi significa guardare all'interno e guardare e leggere tra le righe il territorio può essere aiutato, dobbiamo aiutarlo ed è quello che stiamo facendo A proposito del territorio per concludere CIFA già è presente massicciamente sul territorio provinciale quindi chiunque volesse approfondire e chiedere di più, sapere di più oltre che a Mazzara e in via Salemi si può rivolgere nei vostri... Assolutamente, abbiamo gli uffici in tutta Italia la nostra sede è a Roma ma la sede regionale l'abbiamo a Caltanissetta la nostra sede è in provincia di Trapani abbiamo nove punti ufficio dislocati nelle varie sede con dei protocolli di intesa fatte con aziende aderenti al nostro sistema quindi Alcamo, Santa Ninfa, Campobello, Castelvetrano Mazzara, il nostro territorio, tiene anche la sede provinciale qualsiasi informazione può essere richiesta anche da noi per essere attivi in questo senso grazie